Rubate a Milano e in meno di due ore trasferite e smantellate in provincia di Vicenza. I carabinieri di Tiene stanno verificando l'esistenza di un probabile giro di ricettazione di vetture rubate che farebbe capo all'Europa SRL, anonima officina di autodemolizioni con sede a Sarcedo, dove sabato notte i militari dell'arma hanno beccato in flagrante Mariano Lazzaretto e Michele Schneider, rispettivamente socio e dipendente dell'azienda, mentre ancora con pinze e tronchesi in mano stavano riducendo ai minimi termini una nuovissima Fiat Punto, rubata neanche due ore prima nel parcheggio di un centro commerciale alle porte di Milano. Arrestati per ricettazione, ora i due sono rinchiusi nel carcere di Montorio Veronese. La segnalazione è raggiunta appena dieci minuti prima la centrale operativa dei carabinieri di Tiene, già impegnati in un altro arresto in una notte tutt'altro che tranquilla, quando una ditta dell'Aquila di antifurti satellitari aveva localizzato la vettura di un cliente milanese proprio a Sarcedo. Pensavano di ritrovarla parcheggiata e abbandonata la macchina, i militari giunti sul posto, e invece, nonostante l'ora e il giorno, hanno scoperto un'officina in piena attività. All'interno, quello che era rimasto della vettura ha permesso di stabilire che, non essendoci alcun segno di scasso, la macchina sia stata caricata a peso sopra una bisarca. Questa informazione, aggiunta ai tempi davvero ristretti in cui la vettura è stata ridotta a pezzi, sicuramente coordinati con il furto, ha indotto i carabinieri ad aprire un'indagine che forse porterà a scoprire nuovi percorsi.